Convertirsi è questo, tornare ad essere fedeli. Tante volte quando noi ci sentiamo sicuri, incominciamo a fare i nostri progetti, ci allontaniamo lentamente dal Signore, non rimaniamo nella fedeltà. Essere sicuro, ma essere sicuro anche che il Signore è con me. Ma quando c'è la sicurezza e io al centro, e mi allontano dal Signore, divengo infedele. Chiediamo oggi al Signore la grazia della fedeltà. De ringraziare quando Lui ci dà sicurezze, ma mai pensare che sono le mie sicurezze.